Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia, la cronaca in apertura partendo da Catania e dall'arresto di un quarantenne, arresto effettuato dalla polizia. L'uomo infatti, poi condotto in carcere, deteneva illegalmente delle armi. La polizia di stato di Catania ha tratto in arresto un quarantenne per detenzione illegale di arma da guerra e arma comune da sparo. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Catania hanno appreso che all'interno di un'abitazione nel quartiere di San Cristoforo potevano essere state occultate delle armi da fuoco. Per tale ragione gli agenti della sezione antidroga hanno effettuato una perquisizione presso l'edificio. Qui i poliziotti hanno rinvenuto una pistola mitragliatrice calibro 7,65 munita di caricatore e un revolver calibro 38 special risultato oggetto di furto. Unitamente alle armi sono state trovate oltre 200 cartucce di vario calibro. Il quarantenne è stato condotto presso la casa circondariale di Catania, Piazza Lanza. Sono in corso accertamenti finalizzati a verificare se la mitragliatrice e la pistola siano state utilizzate in precedenti episodi delittuosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro. Ci spostiamo nel Palermitano dove la Guardia di Finanza ha invece sequestrato circa 400 kg di pesce. Si tratta di prodotto ittico non tracciato. La Guardia di Finanza di Palermo in due distinti interventi ha sequestrato circa 400 kg di pescato privo dei requisiti di tracciabilità tra i prodotti sequestrati, anche 10 esemplari di pesce spada pescato sotto misura. In un primo intervento i militari della compagnia di Bagheria nel comune di Santa Flavia hanno individuato un veicolo di proprietà di una ditta operante nel settore della vendita al dettaglio di prodotti ittici che trasportava diversi esemplari di pesce castagna, merluzzo e pesce spada non scortati dai modelli di accompagnamento con cui viene garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento, dalla cattura alla successiva commercializzazione. Nel corso del controllo è stato anche appurato come 10 esemplari di pesce spada per un peso complessivo di 75 kg fossero di misura inferiore rispetto a quella minima per cui è consentita la pesca e il commercio. Il responsabile dell'impresa è stato segnalato all'autorità marittima e all'assessorato regionale alle attività produttive. In un secondo intervento, effettuato in prossimità del foro italico di Palermo, i finanzieri hanno individuato e fermato un furgone che trasportava all'interno del vano carichi circa 60 cassette contenenti novellame di sarda per un totale di oltre 250 kg di pescato. I militari, dopo aver constatato che nel conducente del mezzo, nel passeggero, erano in grado di esibire alcun documento inerente al trasporto del prodotto ittico, hanno provveduto a segnalarli all'assessorato regionale alle attività produttive. Inoltre, i finanzieri, dopo aver accertato che il mezzo di trasporto era sprovvisto di impianto di refrigerazione, hanno contattato il medico veterinario dell'ASP, il quale ha accertato che il pesce era in cattivo stato di conservazione e pertanto non idoneo al consumo alimentare. I due responsabili sono stati anche deferiti alla Procura della Repubblica di Palermo, mentre il prodotto sequestrato è stato portato in una ditta specializzata per la successiva distruzione. Restiamo nel palermitano, parliamo dei controlli effettuati dai carabinieri tra Partinico e Borgetto. Sono cinque le persone denunciate. Vediamo perché. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo cinque uomini di età compresa tra i 20 e i 45 anni. I militari dell'arma hanno eseguito un servizio ad ampio raggio finalizzato alla prevenzione dei reati e delle violazioni al codice della strada, organizzando posti di controllo lungo le principali arterie dei comuni di Partinico e Borgetto. Durante i controlli a Partinico, un quarantenne è stato deferito per porto abusivo di arma da taglio, poiché gli è stato trovato addosso un coltello di 17 centimetri, oltre a una modica quantità di sostanza stupefacente, per la quale è stato segnalato alla Prefettura di Palermo come assuntore per uso non terapeutico. Altri due uomini invece, già noti alle forze dell'ordine, sono stati deferiti per ricettazione, essendo stati fermati alla guida di un'autovettura con targa straniera risultata rubata. A Borgetto, un 37enne, è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva con sé due dosi di cocaina e circa 40 grammi di marijuana. Un 24enne, infine, a cui era già stata contestata la guida senza patente, è stato identificato dai carabinieri mentre conduceva un'auto ed è stato pertanto deferito essendo recidivo nel biennio per la medesima violazione. Nel complesso sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per oltre 3.000 euro e sono stati sequestrati tre veicoli. Cambiamo decisamente argomento. A Giardini Naxos c'è un problema che riguarda il quartiere Orto Grande dove manca l'acqua nei rubinetti. Allora il comitato di Sud Chiama Nord chiede all'amministrazione comunale interventi urgenti. Il rappresentante del comitato di Sud Chiama Nord ecologia integrale. Cosa accade al quartiere di Orto Grande e dove ci troviamo? Dunque siamo qui oggi perché i cittadini del quartiere di Orto Grande vivono ormai da oltre un mese in una situazione di grande disagio legata all'emergenza idrica. Come ricorderete già quest'estate noi con un'interrogazione, io e il consigliere Fighera quando eravamo ancora in consiglio comunale, avevamo cercato di porre l'attenzione di questa amministrazione su un fenomeno che è ormai strutturale. Abbiamo tutti negli occhi le immagini della grande siccità che oggi sta vivendo la Sicilia, quindi qualsiasi governo locale deve porsi come obiettivo quello di trovare soluzioni per far fronte all'emergenza idrica. Ora noi abbiamo già da tempo denunciato due cose in particolare. I nostri pozzi che in questo momento necessitano di manutenzioni urgenti e sono dei pozzi con l'abbrodo. È la rete idrica che non è più adeguata alla pressione demografica della Giardini odierna. È una condotta idrica vetusta e sicuramente con una portata non sufficiente. Quali sono gli interventi che Sud e Chiamanordo vorrebbe che fossero attivati? Dunque noi abbiamo chiesto a questa amministrazione innanzitutto di trovare le risorse per gli interventi più urgenti, quindi per intervenire per le urgenze più importanti con somme in bilancio e poi ovviamente di avviare una programmazione strategica cercando di individuare quelli che possono essere dei fondi di varia natura per agire strutturalmente sul fenomeno. Una cosa importante che vogliamo dire è che non bisogna alimentare continuamente scontri istituzionali dicendo che la mancanza d'acqua è sempre colpa degli altri perché sembra quasi che questa amministrazione voglia sempre dare la colpa agli altri, ora è Amam e la volta scorsa era Tavormina. Non è così. Noi abbiamo una forte responsabilità e dobbiamo assumercela tutta di intervenire su questa fattispecie e risolverla per non far vivere ai cittadini questo disagio. Parliamo ora del piano vitivinicolo regionale e provvedimenti della regione per un settore in difficoltà come quello appunto vitivinicolo. Presto il bando per i danni da per onospora. Attivazione della misura della vendemmia verde, investimenti per le cantine e per la promozione sui mercati extraeuropei per rilanciare il comparto vitivinicolo siciliano. Sono alcune delle misure concordate nel corso della riunione del gruppo di lavoro della Sicilia del Vino istituito nei mesi scorsi per la redazione del piano vitivinicolo regionale che si è tenuta nei locali dell'assessorato dell'agricoltura. Un incontro per fare il punto sui bandi in procinto di essere pubblicati e sulle misure volte a proteggere e rilanciare il settore vitivinicolo dopo l'annus ribilis del 2023 caratterizzato da diverse criticità dalla crisi economica alla catastrofe della peronospora passando per la siccità. Tutti fattori che stanno mettendo a dura prova anche la produzione del 2024. Coniugare programmazione ed emergenza, ha dichiarato l'assessore all'agricoltura Luca Sanmartino, è la vera sfida che caratterizzerà il nostro lavoro nei prossimi mesi per salvaguardare un settore che ha costruito una grande credibilità e reputazione a livello internazionale. Le misure concordate con i rappresentanti della filiera vitivinicola vanno in questa direzione, ha affermato Sanmartino, che ha poi annunciato la pubblicazione del bando per i contributi per danni causati da peronospora 2023, previsti dalla legge di stabilità 2024, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro. Prolungare la durata dei diritti di impianto e salvaguardare il vigneto Sicilia, elemento paesaggistico fondamentale sottoposto all'aggressione della perdita di valore, del fotovoltaico e del cambiamento climatico. Sono le richieste che i rappresentanti della filiera vitivinicola hanno sottoposto all'assessore Sanmartino affinché le riporti in sede nazionale ed europea. Inaugurato a Adacireale il nuovo anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico. Vediamo i dettagli nel servizio. Ad Adacireale, presso il Centro Studi Genuardi di Santa Maria Malati, è stato inaugurato l'anno giudiziario 2024 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo, che raccoglie nei suoi uffici la provincia ecclesiastica di Catania, comprendente l'Arcidiocesi di Catania, la Diocesi di Acireale e la Diocesi di Caltagirone. Ad apri è la cerimonia, la recita dell'ora media e il saluto da parte di Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo di Eccireale, Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania e Don Salvatore De Pasquale, Vicario Generale di Caltagirone. Nel corso dei saluti iniziali, il Vescovo Raspanti e Monsignor Luigi Renna hanno sottolineato l'importanza del Tribunale. Finalmente un avvio ufficiale, bello, con tantissima presenza di persone e soprattutto con tanti che hanno potuto ascoltare più direttamente da vicino tutta la problematica riguardante alla vita della famiglia, alla questione della nullità matrimoniale e le problematiche inerenti a questi procedimenti. Cose che molti ignorano ancora, ma che ci ripromettiamo nel futuro di continuare a diffondere questo aspetto fondamentale che ha l'amministrazione della giustizia nel campo della vita matrimoniale e familiare. Una svolta nella vita delle chiese che sono in Sicilia, perché solo fino a due anni fa questa zona della Sicilia deriva a quello regionale di Palermo, perché questa scelta per stare vicini alla gente, per stare vicino soprattutto alle coppie che desiderano fare chiarezza sul loro matrimonio e portare a termine un riconoscimento di nullità se ci sono le condizioni. Parliamo di turismo. A Taormina e Giardini Naxos, noto comprensorio turistico, fioccano già le prenotazioni anche dalla lontana Australia. Sentiamo Mauro Romano. Giuseppe Virzi, giornalista australiano. Anche alla luce del fatto che nel nostro comprensorio a Taormina e a Giardini fioccano le prenotazioni degli australiani. Quali sono i consigli che può dare a chi è destinato ad accogliere tanti tanti ospiti provenienti da questo lontano paese. Allora, in primis, prenotate adesso perché poi luglio-agosto, ma se avremmo già prenotato prima. Allora, io vi consiglio adesso, se volete venire qui a mare, io sono disponibile sulla mia pagina Facebook di dare la gente immobiliare, amici che hanno gli appartamenti. Poi, se non volete venire proprio a Taormina e a Giardini Naxos, ci sono i paesi vicini qua. Monciuffi Melia, c'è Galattaviano, c'è Fiume Freddo, i Putiedi, quindi c'è tante opzioni e poi quei posti che non sono vicini al mare naturalmente sono a prezzi abbordabili. Come vede dal punto di vista turistico il nostro comprensorio, cioè gli australiani che consigli possono dare a migliorare il comprensorio turistico? Ma il fattore qui è, diciamo, i parcheggi, ma sono poi cose che uno si abitua, paese che vai, usanze che trovi. La Sicilia ha tante cose che si dovrebbero aggiustare, però guarda, nell'insieme, se tu vai a Parigi, a Londra, a New York, quando si ha da mangiare, che mangiare? Cadegli, mangiare profumi, odori, colori, i siciliani, c'è tutto qua. Non ci manca niente. E quindi lanciamo un messaggio, venite qua in Sicilia, a Taormini, a Giardini. La Sicilia vi aspetta, vi accoglie. Chiediamo con il calcio. In vista della partita contro la Cremonese, il tecnico del Palermo, mister Corini, ha parlato in conferenza stampa. Ribadisco il concetto, è una partita oggettivamente molto, molto importante. La Cremonese ad oggi è un punto sopra di noi e dunque siamo in svantaggio rispetto a loro. Di conseguenza sappiamo bene quanto è importante consolidare il percorso che stiamo facendo. Andando a giocare in un campo e contro un avversario veramente di grandi qualità, ma con l'ambizione e la consapevolezza che abbiamo caratteristiche che possono dare fastidio alla squadra avversaria e con un percorso di consapevolezza molto importante dell'ultimo periodo e questo vogliamo portare in campo consapevoli che qualsiasi cosa accada e la speranza è che accada qualcosa di molto bello. Ci sono poi 12 giornate con 36 punti e può succedere veramente di tutto, a prescindere da come andrà la partita di sabato. La settimana scorsa vi ho detto quanto è stato importante quel filotto di quattro partite che è iniziato da Parma per averlo affrontato con coraggio e averlo sviluppato due vittorie, perché abbiamo vinto con la Cremonese e col Pisa, aver pareggiato a Parma e a Como, essendo in vantaggio praticamente fino nel tempo di recupero. Dunque per me lì è nata l'idea di quello che poi piano piano siamo riusciti a consolidare, migliorarci, ma come poi dico sempre ai miei giocatori, a migliorare e ottenere risultati ti assumi della responsabilità e su questo bisogna dare una grande continuità e abbiamo un'altra verifica molto molto importante sabato a Cremona. Io penso che se affrontano due squadre che hanno un'identità e dei concetti e dunque sicuramente strategicamente rispondendo prima a Fabrizio nella contrapposizione dei sistemi, loro possono prenderci certi vantaggi in certe zone di campo, noi pensiamo di prendercene in altre zone di campo rispetto a come giocano loro e poi per me l'equilibrio mentale, la capacità di leggere i momenti della partita diventerà fondamentale quando ci sono giocatori di un certo livello e dobbiamo dire che nella Cremonese insomma hanno anche giocatori che con una giocata importante possono rompere l'equilibrio, parlo di Vasquez, di Falletti, di conseguenza hanno una squadra qualitativa che anche da punto di vista prettamente atletico a gamba, pedala e dunque è una squadra costruita per vincere il campionato e dunque dobbiamo fare una partita attenta nel portarla dove vogliamo noi, nel coprirci bene dove sappiamo che loro possono prendersi dei vantaggi ma anche con la consapevolezza che in certe situazioni possiamo fare male e l'abbiamo dimostrato anche due mesi fa nella partita d'andata dove anche loro hanno fatto una partita d'attacco ma non ci siamo risparmiati nemmeno noi. È tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.